E' una spada di Dammolkle sulla testa di albergatori ed operatori turistici. Il meteo e le previsioni a lungo termine condizionano e non poco il borsino delle prenotazioni anche nel comparto fanese che a differenza però di quello pesarese che soffre della sindrome del tutto esaurito che ancora non c'è stata, come ha sottolineato i vertici dell'Associazione Albergatori Pesarese, invece qui gode di buona salute. Luciano Cecchini, presidente di Federalberghi, Marche Nord, è molto chiaro sul tipo di accoglienza nel fanese. Un'accoglienza di stampo familiare dove il cliente viene chiamato ancora per nome e dove non ci sono i mega alberghi con centinaia e centinaia di camere da riempire, giocando sempre di più a ribasso, e dove gli ospiti sono dei semplici numeri di camera. Qui da noi, dice Cecchini, la realtà è ben diversa tranne due strutture, le altre sono al di sotto delle cento stanze e quindi c'è un clima diverso, servizi, accoglienza e un ambiente familiare che fanno sentire l'ospite come a casa sua. Ma il tempo, il meteo, purtroppo, giocano un fattore determinante. Quello che è importante sempre è il tempo. Noi siamo legati al 99% il tempo. Quando ci sono delle previsioni azzardate, cattivo tempo, disdette continuative e naturalmente veniamo anche penalizzati, non solo noi, ma anche i commercianti. Altro salvagente per le nostre strutture sono gli eventi, a cominciare da quegli sportivi che portano a Fano centinaia e centinaia di praticanti, più il seguito e le grandi manifestazioni, come è stata la Fano dei Cesari di quest'ultima settimana. Abbiamo avuto un bellissimo weekend, questo, che è stato a livello sia turistico che a livello sportivo. Abbiamo avuto più di 400 tiratori al tiravolo e poi abbiamo avuto i paracadutisti. E quello che ha riempito questi weekend, anzi questa settimana, la Fano dei Cesari. Facendo una percentuale, diciamo al momento, le prenotazioni come sono? 60-70%? Un 70%, un 70% lo possiamo mettere, però è sempre legati al tempo. Speriamo, io dico sempre, sole, mare, accoglienza, enogastronomia e viva l'Italia!